Lorenza Bonaccorsi, a che punto è la trattativa sull'Italia? Abbiamo visto che il Ministro Poletti ha dichiarato che siamo in addirittura d'arrivo, che ci sono le condizioni per chiudere. È chiaro che si sta lavorando affinché si riesca a fare in modo che ci sia il minor numero di esuberi e anche comunque con il numero di esuberi che verrà fuori dalla trattativa si cercherà di lavorarci grazie al tavolo che si aprirà a settembre con la Regione Lazio e con l'Enac per utilizzare per la prima volta il contratto di ricollocamento dei lavoratori. Cosa si intende per il contratto di ricollocamento? Qual è la natura di questo contratto? È questa novità inserita nei provvedimenti che stiamo votando in Parlamento e si tratta di utilizzare i lavoratori e ricollocarli in aziende affini alle loro attività. Si farà uno sforzo e si cercherà di reinserire i lavoratori all'interno di quelle aziende che appunto sono affini per merceologia o per tipologia di lavoro. Quindi ovviamente sono coinvolte le istituzioni più vicine e più territoriali quindi a cominciare dalla Regione Lazio. Il Presidente Zingaretti qualche giorno fa ha già detto che si lavorerà insieme per utilizzare questi nuovi strumenti. La CGL non ha ancora firmato, comunque sembra a metà del guado rispetto a questa trattativa. Lei crede che alla fine rientrerà il dissenso della CGL? Io questo non lo so, so che si stanno incontrando in questi minuti proprio con il Ministro Lupi di nuovo i tre segretari confederali. Si sta trattando sul contratto collettivo nazionale, si sta lavorando su quello, si è lavorato tra l'altro tutta la notte. Credo che l'ipotesi e quindi la trattativa all'Italia-ETIAD sia una grande opportunità per il rilancio industriale del comparto aeroportuale italiano. È anche vero che noi paghiamo degli errori enormi degli anni precedenti e quindi dobbiamo riuscire appunto a salvaguardare il maggior numero di lavoratori e però rilanciando il comparto. Perché comunque è un comparto che ha tutte le potenzialità di ripresa e quindi di prospettiva, di riassorbimento e anche di sviluppo occupazionale. Grazie. Grazie.